Il coronavirus continua a far paura a chi possiede un animale domestico, si preoccupa per la salute del proprio cane o del proprio gatto. Così a rassicurare tutti i padroni c'è l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. Gli animali da compagnia non diffondono il coronavirus, confermano i medici, lo dicono tutte le autorità sanitarie mondiali, ricordando però una misura di ordinaria igiene, lavarsi le mani con acqua e sapone dopo ogni contatto con il proprio animale. Inoltre l'Associazione dei Medici Veterinari consiglia ai padroni che possono risultare positivi al covid-19, che sono in quarantena anche volontaria di tenere con sé gli animali da compagnia. Certo è che per chi non possiede uno scoperto, fargli fare la sua sgambatina quotidiana diventa un problema e da allora si moltiplicano in queste terribili giornate segnate dall'epidemia le iniziative di volontariato anche per gli amici a quattro zampe, come quella dell'Associazione Senigalliese Sguinzagliati e dei volontari dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri che, nell'ambito di un protocollo sottoscritto con il Comune di Senigallia, hanno attivato un servizio che prevede lo svolgimento della passeggiata quotidiana con personale esperto e qualificato, la ricerca di stalli e affidi per gli animali di cui le famiglie non possono più prendersi cura, il reperimento in caso di necessità di cibo e medicinali, inoltre anche l'accompagnamento dal veterinario di fiducia e il supporto nell'eventuale somministrazione di farmaci. Il servizio può essere richiesto via WhatsApp scrivendo al numero 339-7110354 tutti i giorni dalle 9 alle 19. È davvero molto bello, ha affermato il sindaco di Senigallia, Mangialardi, vedere come la nostra comunità, in questo momento così difficile per tutti, sia capace di stringersi intorno a chi ha più bisogno, non trascurando attività come queste che rivestono una notevole importanza per quanti condividono la propria vita con un animale domestico e soffrono nel non poter adempiere alle sue esigenze e necessità.